Con il prossimo match della serata, questo match è di shoot fighting, ovvero non è valevole per le qualificazioni E-MAF, lo shoot fighting sostanzialmente è MMA in piedi, però a te c'è colpi che è in piedi, però a terra è solo grappling, ripeto, questo non è valevole per la selezione E-MAF, combattono nella 70 kg di peso. All'angolo blu, per l'invito in Sarena, viene da Roma, Valerio Morri! Non c'è l'ampio di Sarena, non c'è l'ampio. La conferma chi me la dà, se non lo so io non lo sapete manco voi. La conferma chi me la dà. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.